Il problema di pulizia nei ragionamenti che va fatto, perché ci sono tre ordini di problemi. Primo punto, i parlamentari che hanno chiesto il bonus per le partite IVA, dovevano chiederlo oppure no? Secondo me no, assolutamente no. Non dovevano, non che non potevano. Perché? Perché il secondo problema è legato proprio alla legge, perché, diciamo, l'altra domanda che potremmo farci è è stato giusto non introdurre un tetto di reddito per le erogazioni di quel bonus nei primi mesi? Sì, la risposta è stato giusto non introdurlo, perché erano i primi mesi del lockdown e giustamente il governo ha scelto di privilegiare la velocità di erogazione a discapito della selezione dei requisiti minimi di accesso per le prestazioni di sicurezza. Questa è la questione chiara e posso dire una cosa, lo si è fatto per una ragione precisa, per dare la possibilità, per esempio, a commercianti, artigiani che magari avevano portato a casa danno prima una dichiarazione di reddito importante e di poter avere in questi mesi un minimo di liquidità in più per far fronte al disastro generato dal lockdown. E quindi, diciamo, se mi è consentito, meglio un parlamentare che si deve vergognare per la sua scarsa etica pubblica piuttosto che lasciare senza aiuto chi davvero ne ha bisogno. L'ultima questione riguarda, è giusta questa caccia all'uomo che è partita? Perché, attenzione, un conto è contestare la legittimità di una scelta di un parlamentare, un altro è fare un passo in avanti e dire che andava fatta una legge per vietare esplicitamente a un parlamentare di avere accesso a quei bonus. Cioè, questo è un passo in avanti un po' complicato da giustificare, perché diventa una specie di accanimento contro la cassa brutta e cattiva e qui ha ragione telese, perché se è vero che su 3, su 945 deputati e senatori, solo in 3 al momento, sono quelli che hanno fatto questa, diciamo, furbata, bene, cioè nel senso che una media è molto male. E concludo, è stata una stupidaggine, sì, ma ripartire con la caccia contro la cassa brutta e cattiva su tutti i farabutti, andiamoci via. Sentiamo Vittorio su questo.